Purtroppo, cara papà, non sarai allettato da un contattempo. Sì, il contattempo si chiama Dale Willis, la mia terza mattina. Mi ha abbracciato una volta, è lasciato per te rubarmi. Non ci sarà piena, Dale. Sai una cosa? Ora abbiamo di cose, all'entrata di un'attività di così. E non lo so, sto guardando un attimo, a me è tutto l'ultimo. Grazie.